Buonasera da Infostudio, mercoledì 25 ottobre. Per due mesi Carabinieri e Polizia Municipale di Merito Portosalvo hanno effettuato appostamenti, pedinamenti e anche rilevazioni naturalmente fotografiche e immagini filmati dei dipendenti del Comune. Oggi in un'operazione che è stata con il senso certamente sarcastico che necessitava, definita, denominata ubiquitas, si è arrivati a sette arresti domiciliari. Sette persone, sono sette dipendenti dell'ufficio tecnico e dell'ufficio anagrafe. Vedete le immagini delle persone coinvolte nel momento in cui compivano i loro reati, reati che sostanzialmente possono essere riassunti nella truffa. E poi c'è la falsa attestazione della presenza in servizio, pur risultando regolarmente in ufficio a prestare ore di straordinario. Invece Francesco Albano, 61 anni, Giovanni Attinà, 44, Giuseppe Attinà, 62, Antonino Gatto, di 64 anni, Vincenzo Manti, di 56, Giuseppe Marino, di 64 e Francesco Pratico, di 43 anni, al lavoro non c'erano. Si scambiavano reciprocamente i badge personali, in questa maniera eludevano il sistema di rilevazione elettronica delle presenze e nelle ore di lavoro, anche di straordinario ripeto, si sarebbero dedicati ad attività personali come fare la spesa al mercato, leggere il giornale in auto, frequentare circoli ricreativi, supermercati o bar, andare dal barbiere, presenziare a cerimonie funebri. Questo è il momento in cui i carabinieri entrano nel comune di merito Portosalvo, perché oltretutto i mandati degli ordini di custodia cautelare sono stati eseguiti proprio presso gli uffici del comune. E poi c'era anche chi si prendeva cura del proprio terreno o si teneva in forma con vere e proprie sessioni di corsa quotidiane della durata di 30 minuti per giunta all'interno del chiostro di un edificio del comune. I fatti risalgono ai mesi di marzo ed aprile del 2016. Perché ci si è soffermati su questi mesi? Ma evidentemente il sospetto che l'attività fosse già cominciata e già preesisteva. Perché in quei tempi vennero stanziate delle somme di denaro che sarebbero dovute servire ai comuni, agli uffici comunali, proprio per far fronte ai pagamenti delle ore di lavoro straordinario elettorale, cioè in relazione appunto ai referendum sulle trivelle. Nei confronti di altri indagati sempre dipendenti del comune di merito Portosalvo, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria si è riservato di decidere ed eventualmente di emettere nuove misure interdittive agli esiti dell'interrogatorio. A Crotone invece una onlus impegnata tra l'altro, o almeno questo risultava, nell'assistenza in favore di anziani e disabili, era, lo hanno scoperto le fiamme gialle, la Guardia di Finanza, in realtà un'attività commerciale che avrebbe sottratto al fisco ricavi per 10 milioni di euro. A fare luce su questa presunta associazione senza scopo di lucro è stata la Guardia di Finanza, ripeto, che ha denunciato due persone per truffa, indebite percezioni di contributi, dichiarazioni fraudolente ed emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Ricostruendo le operazioni economiche della onlus, infatti, i finanzieri hanno determinato la reale veste giuridica dell'associazione, poiché dal controllo sono emerse le erogazioni da parte della Regione Calabria, a sostegno delle rette pagate dai degenti anziani o disabili, e sono state contestate indebite percezioni di contributi pubblici per circa un milione di euro. A questa somma poi si aggiungono i circa 10 milioni di euro circa non dichiarati al fisco dal 2011 e la scoperta di fatture false per oltre 2 milioni di euro. Dopo domani, venerdì 27 ottobre alle ore 21, va in onda la nuova puntata di Io scelgo Calabria di Massimo Tigani, che poi verrà replicata domenica 29 alle 12 e 20 e lunedì 30 ottobre intorno alle 23, alle 23 circa. Nella puntata che manderemo in onda dopo domani, Massimo Tigani ha ospitato il presidente della SACAL, Arturo De Felice, col quale si è discusso naturalmente dello stato del trasporto aereo della SACAL. Spero che lasciino lavorare la società perché questa governance possa produrre i risultati che si è prefissata. Ha detto fra l'altro De Felice che è il presidente che è stato designato dalla Giunta regionale dopo le note vicende giudiziarie che hanno portato fra l'altro all'arresto del suo predecessore Colosimo ed è oltretutto il primo presidente da quando la gestione dei tre aeroporti calabresi è stata riunita dall'ente nazionale per l'aviazione civile. Ma l'aeroporto in questo momento oggetto di maggiori attenzioni è quello di Crotone perché Crotone è un aeroporto chiuso da un anno e presto potrebbe essere riaperto. De Felice ha confermato intanto che Crotone sta per tornare a volare. Ha rifatto la data del primo dicembre che non è ancora ufficiale ma sembra che su quella tutti si stiano concentrando per il primo volo che sarà un Crotone-Roma. Ci saranno voli giornalieri con Milano e Roma, un volo alla settimana per Bologna e poi ci sono contatti, non è ancora ufficiale il volo per Londra. Ha sottolineato come la Sacra l'abbia ricevuto l'aeroporto in stato di totale abbandono ma mi sembra abbastanza normale questo considerato che la struttura era, ripeto, chiusa. Ha parlato del passato, caratterizzato, ha detto da sperperi assurdi ma ha smentito, ovvero non ha confermato, diciamola così, non ha confermato che il vettore sia quello che secondo indiscrezioni dei giornali dovrebbe essere, valo a dire, la compagnia austriaca ma ormai di proprietà tedesca Austrian Airlines. L'aeroporto di Crotone intanto ci è stato consegnato un po' dopo Reggio ma soprattutto ci è stato consegnato in uno stato di totale abbandono perché mentre bene o male Reggio proseguì un minimo di attività era uno stato di totale abbandono e dove c'era stata una grandissima crisi con la compagnia che prima gestiva quei pochi voli come si legge oggi su tutti i quotidiani si pagavano addirittura a questa compagnia 16 euro a ogni passeggero che imbarcava quindi il volo era già pagato prima di decollare con fondi pubblici questa è di una gravità assoluta tant'è che leggo che sono stati riviati a giudizio tutti gli amministratori precedenti uno sperpero di Danaro assurdo dove addirittura non veniva nemmeno utilizzato lo spazio commerciale minimo per avere un'entrata da chi gestiva l'aeroporto tutto questo ovviamente richiede tempo, pazienza, tessitura io leggo dichiarazioni costanti a getto continuo di tante persone ognuna delle quali vorrebbe rivendicare di aver fatto, di aver detto, di aver operato non faccio commenti su questo ci è voluto un grandissimo sforzo e lo dico senza falsa modesta un grandissimo sforzo per recuperare anche l'immagine e la credibilità dello scalo di Crotone che era considerato al limite uno scalo da utilizzare solo nella stagione charteristica siamo riusciti a portare avanti molto riservatamente una trattativa con una compagnia straniera che nessuno, nonostante gli sforzi ognuno vuole fare per dare un nome non è quella che tutti vorrebbero dare per certo perché non lo sanno e non lo possono sapere che non l'hanno mai visti perché tutti questi che si arrogano di aver lavorato non sanno nemmeno di chi stanno parlando lo sappiamo noi in società abbiamo lavorato con pochissimi preziosi collaboratori che ho trovato in SACAR che hanno dimostrato un attaccamento fuori dal normale della società per mantenerla e per darle un ruolo che le compete quindi se tutto procede come io sono ormai certo il primo di dicembre decollerà dall'aeroporto di Crotone il primo volo nazionale che come ormai è pubblico dominio sarà per la capitale per Fiumicino poi c'è il volo per Milano, ci sarà il volo settimanale per Bologna e faremo un tentativo su Londra due volte alla settimana il problema è che rega la SACAR perché per poter reggere la SACAR deve essere lasciata lavorare tranquilla non deve essere infastidita da mille problemi del quotidiano legati ancora in alcuni aspetti a campaninismi veramente desueti e desolanti bisogna riconoscere che l'armonia è una delle cose fondamentali purtroppo non c'è stata al 100% e nemmeno al 50% fino ad oggi vediamo se il tempo che di solito è galantuomo consentirà questa gestione Matteo Renzi ha lasciato la Calabria oggi l'ultima tappa con la visita al Santuario di San Francesco di Paola adesso è diretto verso la Campania Matteo Renzi ha incontrato un'azienda famosa della Piana che produce il grosso del latte calabrese ha parlato con i precari dei Vigili del Fuoco è stato a Rosarno, a Catanzaro Lido in un'azienda vinicola della provincia di Crotone Cirona Marina tra le più note e è venuto a dirci che ci vogliono tre ore per arrivare dallo Ionio al Tirreno che è lo stesso tempo che dice io impiego per fare Roma-Firenze andata e ritorno come se non lo sapessimo è un po' alienante, un po' deludente quello che abbiamo ascoltato e visto quello che non ci raccontano i giornali e le televisioni ma ci fanno vedere ogni giorno decine di persone sui social e su YouTube le contestazioni sono state limitate sono state filtrate le presenze i militanti sono riusciti a arrivare nella prossimità dei binari qualcuno è riuscito a passare altri no, qualcuno riusciva insomma ad imbucarsi ma diciamo che poi tutto viene fatto passare come filato liscio e così non è perché ovunque Renzi sta arrivando dal 17 ottobre da quando è partito dalla stazione Tiburtina francamente sono pochi e abbastanza organizzati Ipeana mentre sembra proprio che non goda in questo momento di grande popolarità oltretutto quello che sconforta è ciò che dice ciò che afferma cose che del resto chi vive ogni giorno la realtà del proprio territorio conosce benissimo e questo conferma anche questa incapacità forse in questo momento del centro-sinistra di intercettare l'umore dell'elettorato dell'elettorato, della popolazione e di riuscire ad interpretarne i bisogni e a dare risposte soprattutto abbiamo preso il treno e ci abbiamo messo tre ore per arrivare a Ciro a Marina ora la cosa ingiusta è che in tre ore io da Firenze vado a Roma e torno indietro vado a Milano e torno indietro non è giusto che ci sia gente di serie A in Italia e gente di serie B e questo è sinceramente inaccettabile la 106 la 106 intesa come strada è fondamentale che finalmente i lavori partano il miliardo e cento milioni è lì adesso oggi abbiamo chiamato dal treno il capo dell'azienda, Staldi ci ha raccontato, ci ha spiegato che stanno facendo le progettazioni e che i cantieri saranno pronti a partire dai primi mesi del 2018 gliel'hanno detto? se ne è accorto? sta di fatto che ora Matteo Renzi presidente del Consiglio dei Ministri dal 22 febbraio 2014 al 7 dicembre 2016 vale a dire per due anni e nove mesi più piegatura risegretario del PD a furor di popolo e candidato in pectore alla ripresidenza del Consiglio al netto di possibili e, secondo i sondaggi probabili, valanghe siciliane dicevamo ora Matteo Renzi sa che in Calabria ci vogliono tre ore per percorrere in treno qualche decina di chilometri e che questo è inaccettabile della statale 106 e delle sue condizioni beh, era difficile che non fosse informato e comunque l'ex presidente risegretario sventola 750 milioni di euro di investimenti per la linea ferroviaria più un miliardo e cento milioni di euro per la 106 e preannuncia l'inaugurazione dei cantieri per quest'ultima per l'inizio dell'anno ventura in politica per accreditarsi in autorevolezza bisognerebbe avere qualcosa da dire e poi dirlo qualcosa di nuovo, possibilmente per conoscere le dimensioni della loro grama condizione i calabresi, ma non solo loro non hanno bisogno che gli si dica quello che imparano da bambini a parte il garulo popolo dei selfie il treno del PD che ha fatto tappa anche in Calabria ha probabilmente messo tristezza ai vecchi compagni ed ha cresciuto la platea dei disillusi innamorati traditi da una continua anestesia della ragione e dei sentimenti esuli in cerca di patria perché in politica, come nella vita sentirsi parte di una comunità è fondamentale come l'aria il distacco dalla realtà è il padre legittimo e certo della delusione che ha prodotto il distacco la rabbia, l'autocommiserazione di questi ultimi anni perché sull'unità della sinistra si ironizza da almeno un quarto di secolo ma quello che è successo con Renzi non è paragonabile a nulla di ciò che c'è stato prima Renzi e Oliverio fianco a fianco nelle tappe calabresi del trenino parabole parallele quelle dell'ex presidente, risegretario e del presidente in carica pure lui eletto nel 2014 limitandoci solo agli anni 2000 il centrosinistra ha governato con Amato Prodi, Letta, Renzi e Gentiloni ed appoggiato il governo Monti in Calabria per 5 anni con Loiero dal 2005 al 2010 e negli ultimi 3 con Oliverio abbastanza per conoscere, affrontare aggredire le questioni più urgenti che bisogno c'è di passare con l'evidenziatore sulle cose che non funzionano aggrottando la fronte come se finora non si fosse avuto alcun ruolo di responsabilità come se fosse impossibile dirsi e dire la verità fino in fondo come se questo continuo alibi che scarica le colpe altrove potesse ancora reggere al di là della propaganda anche il passaggio del treno di Renzi in Calabria dà un'idea di improvvisazione si vive alla giornata e si naviga a vista e si rincorrono con affanno gli eventi in un continuo sempre più trafelato tentativo di recuperare il terreno perduto come nel caso del referendum in Veneto e Lombardia o come nella vicenda dei controlli sulle banche il centrosinistra si è reincarnato più volte negli ultimi 25 anni ma raramente ha vinto e quasi mai è riuscito a parlare credibilmente all'elettorato e ti credo se gli argomenti sono quelli usati da Renzi significa che non c'è niente da dire a Catanzaro sono state denunciate due persone in relazione ad un esame di guida i fatti sono questi si è presentato a una persona agli esami di teoria negli uffici della motorizzazione civile per conseguire la patente nascondendo una ricetrasmittente con la quale era in contatto con una persona che si trova all'esterno un complice che gli suggeriva le risposte la combina è però stata scoperta dalla polizia stradaria di La Mezzia Terme che ha denunciato i due per truffa in stato di libertà la persona di 33 anni milanese che suggeriva le risposte giunte al candidato nomade di 27 anni che di Catanzaro era già stata arrestata sempre per un fatto analogo a Torino dalla polizia stradale tra l'altro a Torino questa persona questo milanese era riuscito addirittura a prendere il posto del candidato all'esame falsificando il documento di riconoscimento e mettendoci una sua fotografia i noti hanno incendiato la notte scorsa un mezzo meccanico di proprietà dell'impresa della ditta siciliana D'Amiga di Alcamo che sta effettuando lavori nella zona del sito archeologico di Vibo Valencia l'escavatore questo era il mezzo è andato completamente distrutto i danni sono ingenti sta indagando la squadra mobile di Vibo e non è purtroppo il primo episodio del genere che si verifica nella zona archeologica della città in relazione naturalmente ai lavori che si stanno effettuando parliamo invece adesso del recupero dell'ex educandato a Catanzaro era un'aspirazione ormai antica e si è concretizzata negli ultimi sei anni prima l'acquisto da parte dell'amministrazione comunale che ha poi saputo utilizzare ogni tanto ce la facciamo oggi ci sono stati degli appunti della Corte dei Conti alla Regione ma ne parliamo domani con dovizia di particolare dicevo ha saputo l'amministrazione comunale di Catanzaro utilizzare bene i fondi europei l'educandato che era un palazzo di pregio del centro è un palazzo di pregio del centro storico è adesso stato riqualificato ed è funzionale ad ospitare l'Accademia delle Belle Arti Catanzaro ed il Rione Carmine ritrovano un pezzo importante della loro storia e l'Accademia delle Belle Arti ritrova la sua casa dopo tanto girovagare a sei anni dall'acquisto con fondi europei da parte dell'amministrazione comunale alla fine dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione è stato inaugurato l'antico edificio del centro storico di grande pregio architettonico che fu la sede dell'educandato e che è stato recuperato per le attività didattiche dell'Accademia i lavori hanno interessato una superficie complessiva di quasi 3000 metri quadrati suddivisa tra 11 livelli e 4 differenti corpi di fabbrica per ora ha riaperto i battenti un primo blocco di circa 500 metri quadrati che ha un ingresso autonomo da Villa Margherita e il cui nucleo principale risale agli ultimi decenni dell'Ottocento si tratta indubbiamente di un grande risultato per l'alta formazione e per la visibilità dell'Accademia ma non di meno lo è per la dichiarata intenzione della Giunta Abramo di riqualificare i palazzi del centro storico che continua ad essere al centro dell'azione amministrativa tanto che il sindaco preannuncia la riapertura già prima della fine di quest'anno di Palazzo Fazzari ed anche l'intensificazione degli sforzi per riuscire a rendere non solo sostenibile ma anche appetibile per gli studenti la residenza nel cuore della città per me è un valore doppio primo perché recuperiamo uno dei palazzi più belli nel centro storico secondo perché portiamo l'Accademia delle Belle Arti quindi valorizziamo questa Accademia questa facoltà portiamo 300 giovani nel centro storico insieme a Sociologia e i Master che partiranno a San Giovanni rappresenta per noi un momento storico per la città un tassello di quel mosaico che abbiamo voluto programmare per il centro storico di Catanzaro che sarà poi ultimato con la metropolitana di superficie e gli altri edifici che dobbiamo inaugurare credo che a novembre e dicembre inaugureremo anche Palazzo Fazzari poi ci sarà la Maddalena che è stata anche finanziata spero la scuola Mazzini al più presto quindi una serie di palazzi storici che abbiamo voluto recuperare e poi aspettiamo anche il bando dell'edilizia sociale per portare i giovani universitari e famiglie nel centro storico quindi siamo pronti aspettiamo i bandi della regione appena usciranno noi faremo quest'ulteriore programmazione ecco come ripetevo prima finirà si completerà con la metropolitana di superficie perché permettere ai giovani universitari di avere di pagare un postoletto molto di meno rispetto al quartiere di Lido e avere la metropolitana che li porta nell'area universitaria del campus universitario credo che sia la infrastruttura più importante che avremo nei prossimi anni nella città e con il recupero dell'ex educandato nel quale ripeto torna l'Accademia delle Belle Arti di Catanzaro abbiamo terminato per questa sera con l'edizione del telegiornale che però torna domani alle 13.50 è tutto grazie per averci seguito e buonanotte e buonanotte